come ogni giorno ti risvegli alla ricerca dei tuoi sogni nel cassetto con la speranza di risposte ma non vedi oltre a quello che vuoi tu vi presentiamo Andrea Galderisi e il suo nuovo singolo si chiama temporale tutto è molto materiale e poco è fondato sui valori e di questo che parleremo quindi ciao Andrea benvenuto ciao a tutti grazie bellissimo essere qui grazie a te questo temporale poi questa frase che apre la cartolina digitale tutto è molto materiale poco è fondato sui valori sì diciamo che è un po quello che ho notato nell'ultimo periodo quindi mi ha ispirato questa cosa che ho toccato con mano visto con i miei occhi vedo una grande divisione vedo insomma è cambiato proprio il rapporto umano sociale e allora ho preso la chitarra ho messo giù qualche nota e il testo è venuto da sé parlando di chitarra tu sei un musicista sì io nasco come chitarrista cantante ho iniziato a scrivere pian piano e ho costruito ho costruito questo primo ep questo singolo però nasco come chitarrista cantante chitarrista cantante questo singolo scritto insieme ad Andrea Poli e Gianluca Castaldo è prodotto da te insieme a Cristopher Bacco sì ho avuto un lavoro con questi due ragazzi Andrea Poli è chitarrista anche lui e Gianluca Castaldo batterista e abbiamo messo insieme l'arrangiamento mentre invece c'è il grande Cristopher Bacco di Studio 2 di Padova che fa la produzione insieme a me ci divertiamo è un bel team è un bel team è un bel team è un bel team cantante sì la trovate su Spotify Amazon un po' ovunque su tutti gli store e trovate il link sul mio profilo Instagram che è IamGaldeOfficial o se scrivete Andrea Galderisi e vi porta gli store ecco gli altri tuoi contatti Andrea beh ho la pagina Facebook come Andrea Galderisi pagina TikTok Andrea Galderisi Instagram che vi ho appena detta e il canale YouTube Andrea dove c'è il video di temporale girato da Miriam Zennaro molto divertente andate a vederlo sono io che canto sotto la pioggia insieme ai ragazzi e meno male questi sono i principali speriamo che tutti gli ascoltatori siano invogliati dall'ascolto del tuo singolo a venirti a cercare ad ascoltare comunque anche la tua altra musica Progetti Futuri? adesso rilascerò un singolo alla volta ho un nuovo singolo in italiano pronto poi inizierò anche a buttare fuori canzone in inglese in verità io inizio in inglese originariamente vado a riprendere un po' i i miei inizi ecco allora buona vita buona musica e noi ci sentiamo al prossimo singolo magari anche a te saluto tutti e ti ringrazio grazie a te Andrea ciao 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 come ogni giorno ti risvegli alla ricerca dei tuoi sogni nel cassetto con la speranza di risposte ma non vedi oltre a quello che vuoi tu cerchi indipendenza ma non trovi più la tua decenza persa nella tua idea ti concedi ti ribelli non controlli non mi molli e cadi su di me la 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 viviamo dentro un temporale ma recetisci il mio segnale come ogni giorno ti rivedi con la mente in mano e struggi ogni specchio con la speranza di un ritorno al tuo riflesso dove tu non vivi più ti rivedo sola in quella stanza dove va mia testa in giù non ritorni più non ho speranza e alla fine hai vinto tu la 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 ti diamo dentro un temporale ma recetisci il mio segnale e non ti porto sulle spalle ma alla fine hai vinto tu viviamo dentro un temporale ma alla fine hai vinto tu ma alla fine